Io sono Emma, ho 39 anni, vengo da Bologna e parto come laica missionaria combognana. Partirò per il Brasile e andrò a fare un'esperienza missionaria con i laici brasiliani combognani, quindi farò comunità con loro. Mi inserirò nell'attività dei laici brasiliani combognani che si occupano di pastorale carceraria esperienza nelle APAC che sono forme di detenzione alternativa al carcere normale, sono delle carceri autogestite dai carcerati e c'è tutto un lavoro rieducativo sulla persona, sulla sua dignità e sul rispetto dei suoi diritti e poi attività legate alla periferia di Nova Contagem che è il posto dove abiterò io con la comunità dei laici brasiliani combognani. E quindi attività rivolte ai bambini, ai ragazzi, supporto alle famiglie dei carcerati e attività parrocchiali legate alla parrocchia di Nova Contagem. È una scelta di vita, è una scelta legata al vivere appieno la mia fede, il mio essere cristiana, è un bisogno di condivisione con gli altri in un altro contesto, in un vivere l'altro nella sua cultura, è un bisogno di incontro, è un bisogno di camminare insieme all'altro e questo altro rappresenta anche un'altra cultura, abitudini, usanze, vivere la diversità. Non mi voglio far bloccare dalle paure perché se uno si lascia bloccare poi non osa mai, non prova mai e nonostante ci siano dei momenti di incertezza però è più forte il desiderio di dire vai legato poi a un discorso di fede che mi supporta e mi incoraggia a vivere appieno questa esperienza. La parola unita all'azione, un essere e agire insieme, non in maniera separata, che coinvolge completamente poi anche la mia vita e le mie azioni quotidiane. Che cosa mi porterò a casa? Sicuramente, vabbè, uno dice sempre tante cose perché poi alla fine, beh, allora lo potrò dire, allora lo potrò dire, posso immaginare che cosa mi porterò a casa, sicuramente tanta ricchezza legata all'incontro con l'altro, una conoscenza anche maggiore di me stessa, di quella che sono, dei miei limiti. Vado anche forse per diventare più ricca dentro, quindi non tanto per fare ma per lasciarmi fare, anche lavorando su me stessa, grazie all'altro, grazie all'incontro con l'altro.